Decine di agenti dalle prime ore del giorno hanno messo sotto assedio il quartiere Ponticelli di Napoli alla ricerca del gruppo di fuoco che martedì sera, giunto a bordo di moto, sparò all'indirizzo di alcuni poliziotti impegnati nell'identificazione di persone fermate. Durante l'operazione estesa tutto il quartiere ed anche in altre zone della città, che ha visto impegnati vari reparti della questura di Napoli, coordinati dal dirigente del commissariato di Ponticelli, Luciano Nigro, sono state perquisite numerose abitazioni di pregiudicati e controllate decine di persone. La polizia non esclude che i responsabili della sparatoria incappati nel posto di blocco o nel controllo degli agenti avessero in animo martedì sera una spedizione punitiva all'interno del rione De Gasperi. Erano arrivati già con le armi in pugno, le stesse utilizzate poi senza esitare e nonostante la presenza di donne e bambini all'indirizzo di tre poliziotti, i quali, per evitare il coinvolgimento dei passanti, risposero al fuoco solo con colpi sparati in aria. Sei colpi esplosi calibro 7,65 ritrovati dalla scientifica, alcuni dei quali giunti a pochi centimetri dagli agenti. Nel corso dell'operazione di oggi sono state fermate alcune persone che sono in questura per i controlli di rito ed è stato sequestrato un impianto di telecamere a circuito chiuso installato a controllo delle vie di accesso a rione De Gasperi. Sequestrato anche l'hard disk collegato alle telecamere, dove potrebbe essere stato registrato l'ingresso delle cinque moto nella zona.